E ben ritrovato a Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera. Buongiorno, buongiorno a tutti. E anche candidato premier per il Movimento 5 Stelle, benvenuto. Allora Di Maio, lei lo sa naturalmente perché l'abbiamo invitata oggi, no? Perché Gentiloni ci ha detto che non bisogna avere paura di voi, quindi noi l'abbiamo invitata. Sto scherzando naturalmente, ma perché fate paura o non paura? Questo lo deve chiedere a Gentiloni, sicuramente, probabilmente una parte della politica italiana ha paura che gli facciamo saltare qualche privilegio, gli facciamo saltare un po' di soldi dei tanti che hanno preso a scapito degli italiani in tutti questi anni. Tenga presente che noi siamo l'unica forza politica che questa legislatura ha rinunciato al vitalizio, a me si applica la legge Fornero, abbiamo dimezzato i nostri stipendi, io da vicepresidente della Camera non ho mai toccato né la mia auto blu, né il mio volo di Stato, né il mio doppio stipendio, né chissà quanti altri privilegi che neanche ho voluto conoscere. È chiaro che il presidente Gentiloni ieri con quella affermazione è sceso nella mischia, ma un presidente del Consiglio se vuole fare campagna elettorale dovrebbe avere almeno la decenza di dimettersi. Io potrei risolvere tutto con una battuta, quando lui dice non bisogna avere paura, tanto non hanno i numeri per governare. L'ultimo che ha detto una frase del genere è stato Fassino e ci ha fatto diventare la prima forza politica del Paese. Ma dico al presidente Gentiloni, lui dice che non abbiamo i numeri per governare e allora il suo partito, che in questo momento è al 20%, è praticamente tagliato fuori, sta facendo questa ammissione e sta facendo anche un endorsement a Berlusconi dicendo che noi non abbiamo i numeri per governare. Allora io dico agli italiani, le prossime elezioni o alle prossime elezioni del 4 marzo o si dà il voto inutile al PD oppure si dà un voto al Movimento 5 Stelle per riuscire a cambiare un'Italia che è preda ed è un ostaggio di questa classe. Allora, Gentiloni dice che il Movimento 5 Stelle non avrà i numeri per governare perché non ha tante possibilità di allearsi, il PD magari ne ha di più, il centrodestra in questo momento sembra più compatto. Quindi io le chiedo, se lei dovesse vincere e dovesse avere bisogno di qualche numero in più, è probabile, è possibile, è uno scenario possibile, è disposto ad allearsi con qualcuno, sì o no? Le dico con molta chiarezza, noi siamo la prima forza politica del Paese, poi gli italiani decideranno se farci vincere le elezioni oppure no. È chiaro che se non dovessimo avere i numeri da soli la sera delle elezioni del 4 marzo, io non mi sottrarrò a fare un appello pubblico a tutte le forze politiche e a dire, signori, non ci sono più poltrone da scambiare, non ci sono più giochi di potere da fare. Abbiamo un'idea, i 20 punti per l'Italia, quelli che ho presentato ieri a Pescara. Tra questi c'è una pensione di cittadinanza per chi è sotto la soglia di povertà, 400 leggi da abolire per lasciare in pace le imprese di lavorare, c'è il reddito di cittadinanza per una famiglia con due figli sotto i 14 anni che è in difficoltà e deve avere un sostegno, mentre il papà o la mamma trovano di nuovo lavoro perché l'hanno perso. Ci sono tante misure. Ci dicano le altre forze politiche quali sono le loro priorità per il Paese, mettiamole insieme e daremo un governo al Paese. Però io la squadra la presento prima delle elezioni. A differenza loro che non ci stanno dicendo neanche chi è il candidato Premier, io presenterò la squadra dei ministri prima del 4 marzo, così che gli italiani possano votare in maniera trasparente. E' semplice perché poi i meccanismi della politica sono quelli. Allora io sono magari un partito che si mette a colloquiare con voi e dice guarda io ho il reddito di cittadinanza, te lo appoggio, però mi dai il ministero degli esteri oppure un altro ministero. Cioè per fare il reddito di cittadinanza siete disposti a questo? Io le dico questo, se dobbiamo ricominciare a fare come hanno fatto tutti gli altri in questi anni, allora sono io il primo a dire votate per gli altri. Se il Movimento, come immagino e come penso, sarà la prima forza politica il 4 marzo, vuol dire che i cittadini avranno dato un segnale ai vecchi partiti, gli avranno detto basta, basta a stare lì dentro, a pensare ai fatti vostri, iniziate a lavorare per le persone lì fuori e per i cittadini fuori dalle istituzioni. Si lavora mettendo in pila le priorità, non le cariche, gli incarichi o i giochi di potere. Va bene, allora vedremo se troverà degli interlocutori. Senta, altro motivo per cui naturalmente ci fa piacere averla ospite è perché non c'è dubbio che il Movimento 5 Stelle è una forza che interessa, che incuriosisce addirittura. Orietta Berti ha detto che voterà per voi. Lei ha omaggiato Orietta Berti così, voglio farlo vedere. Abbiamo appena lasciato il Piemonte, andiamo in Val d'Aosta. Buona domenica, ci vediamo tra poco ad Aosta. A noi piace anche un po' raccontare i nostri ospiti anche a livello personale, quindi le chiedo subito, canzone preferita e film preferito? Sicuramente di questi tempi la canzone di Orietta Berti, ma lo dico anche perché a Orietta io mando un grande abbraccio, perché in una trasmissione radiofonica della RAI si è permessa di dire che avrebbe votato per noi e il Partito Democratico ha fatto una denuncia alla G.com per quella dichiarazione di Orietta Berti. Ora Orietta Berti non è una persona del Movimento 5 Stelle, è un patrimonio degli italiani. Io sono onorato del fatto che voterà il Movimento, ma mi sento anche un po' in colpa perché per aver detto che votava per noi è finita al centro di una polemica enorme. C'è gente che va in tv una mattina e una sera a dire voto PD, Forza Italia, nessuno gli dice niente, per dirla una volta orietta è diventato un caso politico. Quindi in questo momento, anche per solidarietà con lei, la mia canzone preferita è Finchè la barca va. E però le ho chiesto anche il film, così, per curiosità nostra, per conoscerla. Io sono cresciuto con la saga di Ritorno al Futuro, se lo ricorderà, quindi è uno dei film preferiti. Naturalmente la polemica su Orietta Berti, sono d'accordo anch'io, è una polemica assurda. Piuttosto, invece, io credo che sia ragionevole attaccare il Movimento 5 Stelle, attaccare, tra virgolette, per il governo di Roma. ha fatto scalpore un maialino che girava per la patumiera. Io le chiedo, state governando bene o male a Roma? La Raggi sta facendo bene o male? Stiamo cercando di mettere a posto una serie di danni provocati negli ultimi 30 anni. Ce la stiamo mettendo tutta, ci prendiamo tutte le responsabilità del caso e credo che si debba dar atto al Movimento che si è presa la responsabilità, ma ha avuto anche il coraggio di voler mettere mano ad una città che è più indebitata di una regione come la Sicilia. Roma ha 13 miliardi di euro di debiti, la Sicilia ne ha 5. Roma è una città, la Sicilia è una regione. Stiamo parlando di numeri che quando vengono anche personaggi politici dall'estero e mi chiedono di Roma, quando gli espongo questi numeri, mi dicono ma come avete fatto a ridurvi in queste condizioni? Ed è quello il punto. Io non dico che non bisogna criticarci, anzi criticateci sempre, perché siamo una forza politica che sta governando. Cioè è normale vedere un maialino per Roma come queste immagini? Beh, io a quanto ho capito, a quanto è stato ricostruito, questo animale era stato smarrito da un proprietario che si chiama Casa Monica, a quanto ho capito io da quello che è stato detto. I Casa Monica sapete bene chi sono a Roma e poi alla fine è stato ritrovato. Ma al di là di questo il problema dei rifiuti è un problema che noi stiamo affrontando con la costruzione di tre nuovi impianti. Intanto li mandiamo fuori regione come si è fatto in passato, ma a differenza di quelli di prima stiamo costruendo gli impianti per fermare il business sui rifiuti che facevano quelli di prima con gli impianti privati. Però le dicevo, è legittimo criticarci. L'unica cosa che io non sopporto è che ci diano degli incompetenti quelli che Roma l'hanno ridotta in queste condizioni. Dall'Atac, la parentopoli di Alemanno, l'abbiamo cacciata noi, lui assumeva i parenti, noi li abbiamo cacciati da dentro l'Atac. Come abbiamo messo mano al debito che aveva creato il PD, per esempio, Bellelli, che adesso vanno nelle trasmissioni a fare gli statisti. Noi non abbiamo aumentato di un euro il debito dei romani, loro lo hanno aumentato di miliardi, è questo che io non sopporto quando vedo le critiche. Poi i cittadini invece devono criticarci, perché quando ci esordano a fare meglio, io sono sempre contento. Non so, a Roma però, appunto, sicuramente la situazione dei rifiuti è particolarmente grave. Sulle competenze, ecco, su questo lei è spesso, ci sono battute, ecco, un po' maliziose, sul fatto che lei è diventato vicepresidente della Camera, però non ha un curriculum, è molto giovane, d'altra parte lo è diventato appena trentenne, però non ha fatto l'imprenditore, non ha fatto il politico, non ha fatto... Che cosa ha fatto lei per dire agli italiani, io sono questa persona qua? Io sono diventato vicepresidente, sono stato eletto vicepresidente della Camera dall'Avola di Montecitorio a 26 anni. e prima di entrare in Parlamento venivo da un'area, e vengo da un'area, che è la provincia di Napoli, dove c'è il 60% di disoccupazione giovanile, adesso si è abbassato un po', ma siamo sempre a numeri assurdi. Ho sempre cercato un lavoro, ho sempre cercato di trovarmi un lavoro per portare avanti la mia vita e quando mi prendono in giro dicendo ha fatto lo steward allo Stadio San Paolo oppure ha fatto il webmaster, sì, io stavo portando avanti un progetto di start-up innovativa da aprire una società nella comunicazione, mi prendono in giro per questo genere di lavori, io invece sono orgoglioso del mio passato, come di tanti altri ragazzi italiani che provano a mandare avanti la propria vita nonostante la politica e le difficoltà che ci ha creato e più prendono in giro i giovani italiani perché provano ad aprire delle start-up, provano a fare dei piccoli lavori per andare avanti e più probabilmente faranno prendere voti al Movimento 5 Stelle perché tanti ragazzi si riconoscono, non si riconoscono in quelle offese e in quelle battutine. Le battute... Ma lei da grande che cosa voleva fare? Il governatore della regione... Te lo posso chiedere? Perché immagino che non aveva preventivato di diventare candidato premier. Cosa voleva fare quando era piccoli? Io ho sempre avuto una grande passione per l'informatica, infatti il progetto di start-up innovativa che stavo portando avanti nel 2012 spero di poterlo coltivare alla fine di questo periodo, anche perché noi abbiamo due mandati, non possiamo stare 30 anni nelle istituzioni, il Movimento 5 Stelle ha delle regole ferree e al massimo due mandati e poi si torna a casa perché la politica non è un lavoro a vita, è una missione per conto degli italiani. Allora, grazie a Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle, attualmente vicepresidente della Camera e come a tutti i nostri candidati in bocca al lupo per la campagna elettorale. Vediamo tra poco con Federico. Grazie, bel lupo.